E ora sacrifico XYZ a cannone drago per evocare la mia divinità egizia Obelix il tormentatore Spada forza di luce vai Cos... Hai appena tirato una spada alla mia c***o di carta A quanto pare avresti dovuto adottare una strategia diversa Kaiba Hai appena... Perdere quella carta deve essere stato come perdere un genitore Ma ovviamente sai già come ci si sente al riguardo Smettila I miei mi dicono sempre che sono un duellante migliore di te Di ancora che sono adottato e vedrai che succede Hai ragione, non dovrei prenderti in giro In fondo il tuo papino deve essere molto orgoglioso di te Non provarci neanche Chiunque so sia Ne ho avuto abbastanza Attivo questa carta E io 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 attivo questa E io attivo questa E io attivo tua madre E poi io attivo... Aspetta cosa? Esattamente Kaiba Tua madre L'ho appena attivata Esatto, puoi smettere di cercare Kaiba Dopo tutti questi anni si scopre che sono io il tuo paparino Adesso basta Muto Hai tenuto fermo il gioco per troppo tempo Ora permettimi di essere il primo a mostrarti la mia divinità Guardi evoca la mia No, non è giusto Non puoi stare evocando la tua divinità egizia prima della mia L'ho già fatto, troia Aussi stai ecco a più No, non è giusto No, non è giusto